Ed ecco la prossima estrazione, dai, e che cavolo, dai che ci sono le onde, dai, dai che è tutto verde, dai che questo è pure così, vai, vai che questo è natureza, vai, già ce n'è uno, già ce n'è uno, vai due, tre, 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 ce ne sono tre, ce ne sono tre, non ci credo Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers, io sono Jonathan ed eccoci qui ragazzi in un altro video con Olly e Benji, il gioco di Olly e Benji, ovvero Capitan Tsubasa Dream Team ragazzi Di nuovo con il Dream Festival, ancora c'è il Dream Fest, quindi dicono che c'è, no dicono, c'è una probabilità più alta del 5% precisamente di trovare SSR Nello scorso video c'è andata malissimo, malissimo, con ben 6, abbiamo fatto se non sbaglio, si, no, 4 estrazioni da 50 Dream Balls, quindi 40 giocatori e abbiamo trovato solo un SSR Quindi è meno male che la probabilità era più alta, ma stavolta siamo qui per fare 5 estrazioni da 10, quindi 50 giocatori per noi E che cavolo se non troviamo niente, e che cavolo se non troviamo niente, e che cavolo se non troviamo niente Siamo alla ricerca del portiere, un portiere SSR a questo punto, pure se non mi da Benji, ma qualsiasi portiere va bene E Natureza, dai Natureza per piacere, dammelo, solo lui voglio, solo lui voglio, il brasiliano numero 10 Dai, ho il numero 10 dell'Argentina Diaz, mi serve il numero 10 del Brasile Comunque, quindi speriamo di trovare qualcosa di buono ragazzi, lasciate tanti like, arriviamo a 1000 like sotto questo video Iscrivetevi al canale per altri video con Ali e Benji, altre live, eccetera, eccetera Ma andiamo alle estrazioni, vediamo un po', stiamo accumulando anche questi ticket qua, questi qui che ci faranno magari trovare qualche altro giocatore Speriamo bene, e andiamo a fare queste da 50, eccola prima ragazzi, eccola prima, e speriamo bene Speriamo che il gioco stavolta ci voglia bene, perché la volta scorsa non ci ha voluto bene Siedetemi nei commenti ragazzi voi chi avete trovato, se lo state giocando o no E vediamo un po' stavolta, se mi esce sto naturezza del cavolo Dai, eh già vedo tutto bianco qua, iniziamo male, iniziamo Oh però c'è dell'oro qua, forse, forse, trasformati qualcosa Trasformati qualcosa in SSR per piacere, gioco Non fare lo stupido, non fare, fai che si schianta il pallone, il pallone Fai che si schianta il pallone e mi dà qualcosa Fai che si schianta il pallone, niente, porca miseria Niente ragazzi, andiamo con la prossima Ci credo stavolta, stavolta ci credo Natureza sarà mio, sarà mio Dai gioco, fammi essere un po' fortunato come in PES Ed ecco la prossima estrazione, dai, e che cavolo, dai che ci sono le onde, dai Dai che è tutto verde, dai che questo è pure così, vai, vai che questo è natureza, vai Già ce n'è uno, già ce n'è uno, vai due, tre, 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 ce ne sono tre Ce ne sono tre, non ci credo, stiamo recuperando, ce ne sono tre Ce ne sono tre, fa che sia uno buono Il primo che è, Schneider, 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 Schneider fortissimo Schneider fortissimo, con il tiro di fugo S, va benissimo, va benissimo lui Va benissimo lui, sono contento Vai con il portiere adesso, vai con il portiere Il difensore, Gito, va bene, va bene La difesa è al completo adesso Matsuyama, Robson e Gito Li abbiamo trovati, la difesa è al completo Ora, natureza, ho il portiere Chi sei? Matsuyama, Matsuyama di nuovo Non ci credo Matsuyama di nuovo, volevo natureza Però mi è uscito Matsuyama di nuovo Ce l'ho già a UR Però questo è più forte, questo è quello nuovo ragazzi Questo è più forte di quello che ho io Statisticamente parlando Pure se non sbaglio, ha il contrasto S d'Aquila Il passaggio dell'Aquila e l'attacco valanga Quindi prenderò l'altro Matsuyama che ho E trasferirò il tiro dell'Aquila a questo Matsuyama qui Così avrò anche il tiro dell'Aquila da lontano Quindi avrà tutte le mosse possibili e inimmaginabili Buonissimo, buonissimo così Difesa super al completo Adesso mi serve solo il portiere Pure l'attaccante mi è uscito Serve solo il portiere e natureza ragazzi Solo il portiere E che cavolo, più il portiere adesso Siccome c'è uscito Snyder Snyder è un premio di consolazione Al posto di natureza E c'è uscito pure Matsuyama Grandissimo Abbiamo recuperato in un colpo solo In un colpo solo Tutti quelli che non ci sono usciti male Nello scorso video abbiamo recuperato E vai, va bene così 3 SSR E che cavolo E finalmente E finalmente ci voleva E finalmente ci voleva E noi ci abbiamo ancora 150 E possiamo ancora trovare di meglio E possiamo trovare ancora lui Natureza Quello che vogliamo noi Lo possiamo ancora trovare E noi ci crediamo E noi ci crediamo ancora Ci crediamo ancora Finalmente Finalmente qualcosa Di più non è uscito Ed eccolo qui Dai di nuovo le onde Mi raccomando Eccole qui E ce n'è un altro C'è un altro Ormai non ci fermiamo più Non ci fermiamo più Ce n'è un altro Sì giusto Ce n'è un altro Mi sono uscite quelle onde Mi sono uscite Mi ha trollato Mi ha trollato il gioco Mi sono uscite le energie Non mi trollare il gioco Non mi trollare Mi ha trollato Mi ha trollato alla grande Quelle energie non è la sicurezza Dell'SSR Porca miseria Ha trollato Pensavo Dicevo io È troppo bello Tre SSR Prima un altro SSR Adesso Dai portiere Adesso cerco il portiere Più di natureza Che cavolo portiere Dai Se no mi fanno sempre gol Questi qua Dai Benji Ti sto cercando Ti sto cercando Dove sei Benji Dove sei Un portiere del cavolo Questo non è proprio niente Questo sicuro non è niente C'ho l'ultima ragazzi C'ho l'ultima E senza portiere Come cavolo faccio Come cavolo faccio senza portiere Dai E dai Porca miseria Devo stare senza portiere Dai Escimi di nuovo Tre SSR Tra cui Portiere Natureza In un colpo solo Voglio essere così fortunato Mamma Mi sono usciti Tre SSR Non ti escono Per un sacco di tempo Poi fai un'estrazione E ti escono Tre in un botto solo Va bene Però dai Solo difesa Adesso Dai Giopo Dai Per piacere No No ragazzi No Niente portiere Niente natureza Ci credevo in natureza Lo volevo Tutti che lo trovano Tranne io Porca miseria Porca miseria Niente 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 Siamo contenti di quello che c'è uscito Però Il portiere mi serviva più Snyder mi è uscito Quindi Bucherò con lui Se ci riesco Benji Niente Andiamo a fare quelle altre due estrazioni Lì che abbiamo guadagnato Facendo questi qua Troppo niente natureza Niente portiere Speriamo qui Nel portiere Ma non credo Cioè Non mi è uscito in quelle là Figurati se in queste trovo il portiere Non succederà mai Non succederà mai E che cavolo Un portiere Non dico per forza Benji Pure è Müller Pure è l'altro Niente invece Non mi esce Mi esce qui natureza Nell'immagine No Me lo devi far uscire Trovandolo E Che cavolo Dai Gioco Perché fai così Perché mi tratti così Mi ha trattato bene Con tre SSR Però Niente Porca miseria Ne abbiamo un altro Se non fa No Sono finito Vabbè ragazzi Niente natureza Niente portiere E va bene così ragazzi Va bene così Almeno abbiamo completato la difesa Abbiamo potenziato l'attacco Con Snyder Super mega potente Però natureza Mazzuyama Ma anche fortissimo Quindi in difesa Dovrei bloccare Gli attaccanti Con quello Però il portiere Ragazzi Mi serve sempre Il portiere Donate un portiere A Jonathan Vabbè ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Lasciate un bello Mi piace Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Per altri video Di Oli e Benji Capitan Tsubasa Dream Team E tanto 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 Altro Qui sul canale Dei Yamentola Brothers Poi in descrizione Trovate tutti i social Mi raccomando Passate dai social Poi può capitare Che il Gameplay Non mi sia piaciuto Se il Gameplay Non vi è piaciuto Da parte di Incaro Mazzuyama Grazie ragazzi Da Jonathan Amentola Yamentola Brothers Allo prossimo video Ciao Adio Attenzione 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 Iscrivetevi al canale Dei Yamentola Brothers Attenzione Attenzione Chi non si iscrive al canale Stasera Muore Attenzione 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 Attenzione